Premio di cultura a Ray Manfredi ormai pervenuto alla sua 24esima edizione e tra le ospiti la blasonata ed acclarata cantautrice italiana Giussi Ferreri che ho l'onore di avere qui ai miei microfoni. Giussi buonasera innanzitutto allora la tua presenza fondamentalissima direi ripeto come cantautrice in occasione di questa 24esima edizione Allora buonasera a tutti, buonasera anche a lei e sono molto molto contenta di essere qui questa sera poter presenziare, so quanto è importante questo premio, il premio Ray Manfredi insomma per me è un grandissimo piacere poter essere qui questa sera, ringrazio molto e sono molto molto felice Tra l'altro abbiamo anche avuto modo di ascoltarla durante le prove e direi davvero che ha una voce straordinaria ancor più voglio dire che sentirla in tv, sentirla dal vivo è davvero uno spettacolo Ti ringrazio molto per il complimento, tra l'altro per questa sera abbiamo preparato qualcosa di molto differente di quello che solitamente presentiamo anche perché quest'estate sono in giro in tour con la mia band la produzione è completa, poi sto presenziando in diversi festival radiofonici ma in questo caso la formazione è una formazione acustica formata da basso e chitarra per cui è anche una formazione un po' insolita che ho voluto scegliere appunto per la particolarità anche del mio repertorio e sono molto felice appunto di poterlo presentare qui, diciamo che è totalmente una cosa inedita poi soprattutto ci sarà anche una bellissima sorpresa alla fine Benissimo e noi siamo più felici di lei, quindi un bocca al lupo a Giosi Ferreri Grazie Grazie